Buona giornata a tutti, benvenuti e bentornati qui sul mio canale, se ancora non l'aveste fatto vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Detto questo, nella notte sono proseguite le sorprese, ovviamente parliamo del Master Meal di Montreal in terra canadese dove nella giornata di ieri sono fioccate le eliminazioni illustri perché abbiamo visto Medvedev uscire, abbiamo visto Tsitsipas, Tommy Paul, Kachanov, Humbert e nella notte è arrivata un'altra eliminazione importante ovvero quella di Ben Shelton per mano dell'australiano Popery quindi anche lo statunitense lascia la competizione quindi è un quadro degli ottavi di finale che non è ancora completo perché manca ancora il match di Flavio Cobolli contro Rinderneck interrotto ieri sul 3-0 per il francese quindi Flavio che dovrà rimettere in piedi la sua partita e soprattutto il primo set per evitare di uscire anzitempo soprattutto dopo la grande eliminazione ai danni di Eugé Aliasim e poi abbiamo anche un altro paio di match che andranno a comporre il quadro degli ottavi di finale però appunto dicevamo oggi sono in programma gli ottavi quindi alcune partite devono essere concluse ma andiamo a vedere qual è intanto il quadro generale ovvero abbiamo Yannick Sinner che se la vedrà contro il cileno Alejandro Tabilo primo match in assoluto tra i due con Yannick Sinner numero uno del mondo, testa di serie numero uno del torneo chiamato a difendere i mille punti conquistati l'anno scorso dove il torneo si è tenuto a Toronto quindi un Sinner che ha un bel fardello sulle sue spalle però sappiamo bene come il ragazzo portacolori azzurro sia in grado di sostenere questo tipo di pressioni e di centrare il risultato dopo la bella vittoria di ieri contro Cioric Sinner è chiamato quest'oggi terzo match in programma sul centrale quindi intorno alle ore 21 come ieri 21-22 chiaramente vi aspetto qui in diretta per seguire insieme la partita chiamato a staccare il pass per i quarti di finale contro un avversario che Tabilo possiamo dire è sbocciato quest'anno in maniera definitiva ha conquistato, ha scalato il ranking ATP e con la semifinale di Roma diciamo sulla terra rossa del foro italico si è fatto conoscere con ancora più impeto e con ancora più determinazione giocatore che ha un po' dell'uso alle olimpiadi in quanto la terra rossa è un terreno a lui congeniale però è un giocatore da non sottovalutare Sinner chiaramente parte favorito ha tutte le armi, tutte le possibilità per metterlo al tappeto per portare a casa la vittoria però rispetto al match con Cioric rappresenta uno step sicuramente superiore e un grado di difficoltà maggiore staremo a vedere che Sinner sarà, quale versione del giocatore azzurro verrà messa in campo in quanto sappiamo bene che anche ieri con Cioric Sinner non ha dato il 100% ma è stato più che sufficiente per portare a casa e sbrigare la pratica del giocatore croato contro Ottavio in palio i quarti di finale quindi direi che per Sinner c'è tutto l'interesse di procedere a passo spedito anche perché Yannick Sinner, dopo torneremo sugli ottavi di finale, è impegnato quest'oggi nel doppio quarti di finale del torneo del doppio, fa coppia con Jack Draper e a sorpresa non affronteranno la coppia ben più quotata australiana composta da Hebden e Bopanna ma bensì la coppia polacca sempre temibile composta da Nisse e Zelinski quindi a sorpresa eliminata la coppia australiana appunto dai polacchi al super tiebreak quindi vedremo Yannick Sinner e Jack Draper cosa faranno Jack Draper già eliminato dalla competizione nel singolare, Sinner avrà prima in programma il match nel singolare e poi potrà concentrarsi anche sul doppio quindi doppio impegno per Sinner quest'oggi che cerca di fare insomma all in, portare a casa tutto e staremo a vedere il doppio che ha servito per prepararsi nel miglior modo possibile e si è visto ieri con Cioric che era già abbastanza in palla a Sinner però credo che onorerà la competizione e l'obiettivo sarà quello di provare ad arrivare in fondo perché no in entrambi i tornei ricordo che nel doppio c'è anche la coppia azzurra composta da Volelli e Vavassori che hanno vinto il loro match nella giornata di ieri e sono anche loro ai quarti di finale dalla parte opposta del tabellone rispetto a Sinner e Jack Draper tornando però agli ottavi di finale, guardiamo del torneo singolare maschile andiamo ad analizzare la parte alta del tabellone perché se c'è un Sinner contro Tabilo dalla stessa parte quindi nell'eventuale quarto di finale abbiamo il match tra il russo Rublev e l'americano Brandon Nakashima che è stato mattatore di Tommy Paul nella giornata di ieri quindi verosimilmente si configurerà un quarto tra Rublev e Yannick Sinner però attenzione perché anche contro Echeverry Rublev ha un po' faticato nella gara di ieri e Nakashima di sicuro non è un cliente facile per il russo staremo a vedere però due avversari ampiamente alla portata di Sinner come ha già dimostrato in stagione soprattutto nei confronti di Rublev dall'altra parte abbiamo altri due ottavi di finale in cui abbiamo il nostro portacolori Matteo Arnaldi che si è sbarazzato ieri di caccia in un win 2-7 abbastanza agevolmente che se la vedrà contro colui che ha eliminato Daniel Medvedev ovvero Davidovic-Fochigna quindi match molto equilibrato con entrambi che hanno grandi ambizioni in quanto da quella parte di tabellone sembra esserci veramente una voragine perché l'altro ottavo di finale è Kei Nishikori contro Borges Nishikori che ha eliminato Zizipas si è tolto la soddisfazione di tornare a battere un top 20 del calibro del greco e quindi un Nishikori che ha veramente delle buone possibilità di avanzare in questo torneo appunto dalla parte del portoghese Borges che ha eliminato Umbardi ieri poi appunto Arnaldi e Davidovic-Fochigna quindi una semifinale per lui non è utopia anche se credo che il favorito di questi quattro giocatori possa essere proprio lo spagnolo Davidovic-Fochigna che ha una grande chance dopo aver sprecato a mio modo di rivedere parecchie occasioni nella sua comunque giovane carriera ha veramente l'occasione in un mille di dire la sua e fare la voce grossa e perché no ritagliarsi magari guadagnarsi una semifinale magari contro il numero uno del mondo Yannick Sinner parte bassa del tabellone invece è ben più equilibrata con nomi di spessore perché abbiamo un ottavo tutto da guardare da seguire tra Alexander Zverev e Olga Rune quindi ottavo che promette spettacolo abbiamo Kasper Rudd che sta tenendo il suo avversario che ha già avuto accesso agli ottavi di finale ha battuto Duckworth in 3-7 l'australiano poi abbiamo Ibi Urkracch ancora in attesa di accedere agli ottavi di finale abbiamo Korda che se la vedrà contro Frizz insomma già dei nomi un po' più di livello Kobolli contro Rindernek quindi vedremo da quella parte del tabellone, dalla parte bassa chi sarà che arriverà in fondo, il finalista certo è che è un torneo molto interessante il torneo post-olimpico già molte sorprese e nella giornata di oggi staremo a vedere se ci sarà qualche altro risultato sorprendente noi ci auguriamo che Yannick Sinner possa procedere così come Kobolli e Matteo Arnalli per portare più azzurri possibili avanti nella competizione peccato per Lorenzo Sonego, eliminato da Tabillo però dopo ci sarebbe stato un derby, Sinner Sonego quindi va bene così ripeto, per Sinner oggi non è un appuntamento proibitivo è una partita da non prendere sotto gamba di un livello superiore rispetto a quella che ha affrontato contro Cioric ma Yannick ha tutte le carte in regola e poi sarà interessante perché anche per Sinner è un avversario che non ha mai affrontato e quindi ci sarà da vedere come approccerà la partita Yannick questa sera ripeto, terzo match in programma sul centrale se non sbaglio c'è Urkratz e successivamente dovrebbe esserci Nishikori contro Borges sul centrale e poi dovrebbe essere il turno di Sinner quindi potrebbe essere come orario papabile intorno alle 21-21.30 ma vi terrò aggiornati nel corso della giornata detto questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo più tardi qui sul canale per commentare insieme il match di Yannick Sinner ottavi di finale Master 1000 di Montreal contro il cileno Alejandro Tabilo ciao a tutti